Al via i festeggiamenti per il ventennale di attività del centro commerciale Mongolfiere di Lecce, il primo centro commerciale aperto in Puglia che ancora oggi rappresenta una delle più solide realtà del territorio. Leader indiscusso non solo per lo shopping ma anche per le attività e le iniziative che lo hanno legato al territorio salentino. Nel 1994 infatti grazie ad un'importante iniziativa di Coop Estense nasceva il centro salento, il centro commerciale dei salentini, un luogo commerciale che negli anni con impegno e passione ha saputo rappresentare un punto di riferimento di aggregazione sociale. Ed è per questo che il centro commerciale Mongolfiera ha pensato di rendere omaggio alla sua terra, celebrando questi vent'anni di storia, ripercorrendo avvenimenti ed emozioni che in questo lungo tempo lo hanno accompagnato. Vent'anni un soffio è il titolo della raccolta di immagini con cui il centro commerciale Mongolfiere di Lecce ha voluto condividere con il territorio salentino un percorso virtuoso lungo due decadi, travagliate come poche. A partire dal 14 marzo, percorrendo i corridoi del centro commerciale, sarà possibile scoprire questa suggestiva mostra fotografica che in venti pannelli ripercorre anno dopo anno gli avvenimenti che hanno scritto la storia del mondo dal 94 al 2014, in parallelo con le altre tanti avvenimenti locali e dello stesso centro commerciale che delineano il percorso virtuoso di un territorio e di una città particolarmente attivi nell'ultimo ventennio. Vent'anni ma non si vedono, in genere i primi vent'anni lasciano qualche ruga, invece per questo centro commerciale sembra sempre splendore. Beh diciamo che sappiamo truccarci bene, diciamola così, rubiamo qualche segreto alle nostre compagne e abbiamo l'opportunità di non dimostrare gli anni che abbiamo, ma siamo nel pieno della giovinezza. Direttore, una mostra che racconta vent'anni non solo di crescita e di sviluppo del centro commerciale ma dell'intero territorio. Sì, diciamo noi con questa attività abbiamo voluto creare quello che è un parallelo di questo ultimo ventennio che forse è anche il più ricco e più rappresentativo sotto una serie di aspetti non solo a livello nazionale ma abbiamo voluto incastrare tutto quello che è avvenuto a livello globale, nazionale e locale lì dove è stato possibile anche quello che è avvenuto nel nostro microcosmo del centro commerciale. Il centro commerciale Mongolfiera rappresenta una realtà importante a Lecce e in tutta la provincia a maggio? Una realtà importante della cui presenza noi siamo pienamente soddisfatti e contenti, una presenza che gratifica la nostra comunità, una presenza che ha consentito anche la nostra comunità di svilupparsi negli ultimi vent'anni. A partire dal 94 da quando il sindaco Daniele Capone disse mi sembra un'astronauta, un'astronave scusate, che è scesa sulla terra. Il passato e il presente si incontrano. Lei è il sindaco che ha tagliato il nastro nel 1994? 1994, sì, ero diventato sindaco da pochi mesi, dal novembre del 1993, sono stato sindaco fino al 2000, ho visto la crescita di questo centro e di tutti gli insediamenti vicini. Vent'anni di vita per un centro commerciale ma per un impermercato sono importantissimi. Copp da sempre pensa e immagina il commercio in maniera diversa, legandosi al territorio, e proprio strutturando rapporti molto forti con le organizzazioni sociali, con le scuole, con le aziende, con i fornitori. Questo ci rende parte del territorio e ci rende in particolare diversi nel pensare, nell'immaginare una struttura commerciale. Ciao! Ciao!